Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per incidente due chilometri di coda tra Firenze Nord e Barberino in direzione Bologna. Sulla A12 per traffico intenso coda in uscita a Rosignano in entrambe le direzioni. Sulla A15 per lavori due chilometri di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma e un chilometro di coda in direzione La Spezia tra Aulla e Bivio per la A12 per traffico intenso. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in pruneta. Chiudiamo con i treni fino al 21 settembre per lavori. Sulla linea Grossito-Siena la circolazione è sospesa tra Grossito e Buon Convento prevista riprogrammazione del servizio con corse bus. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!